buongiorno anzi buonasera da sire 49 18 oggi vi farò vedere come windows 8 pro originale niente beta così originale si accende velocemente con un ssd oggi ho appena comprato un ssd da della samsung 840 da 250 giga e guardate come si accende velocemente accendiamo bene adesso c'è questo coso dell'hp della scheda madre bisogna aspettare 5 secondi subito il logo già fatto cioè è velocissimo la password guardate che veloce è già pronto per l'uso per essere usato bene avete visto che veloce adesso vi faccio vedere anche la velocità disco rigido primario velocità trasferimento dei dati 7,5 davvero velocissimo scusate se video è mosso ma con una mano allora quel video è finito vi faccio vedere anche lo spegnimento allora il sistema già spento guardate già spento bene devo dire arrivederci da sire 49 18